Siamo con Vittorio Ramundo, l'MVP del match pareggiato per due pari, grazie anche a una doppietta contro la squadra degli Achei, Vittorio. Bel match? Sì, bel match, molto equilibrato, soprattutto all'inizio. Siamo stati sfortunati, abbiamo reso due pali, poi abbiamo cominciato a macinare il gioco. Un bel doppietto fatto, speriamo di finire bene questo campionato. Probabilmente alla vigilia eravate un po' sfavoriti in questo match, ma poi alla fine la vostra squadra piano piano si sta dimostrando una massa grande. Sì, stavo ridi perché comunque subivamo due assenze pesanti, come quella di L'Apparella e quella di Reale, L'Apparella un po' meno, però ci siamo giocati bene, abbiamo due ottimi sostituti. Ok, quindi l'ultima giornata per prima dei play-off, qual è la squadra che ha il tema di più? Beh, sicuramente i Babumba, che sono sicuramente molto bravi su tutti gli aspetti, sia fisici sia elettrici. Ok, allora grazie mille.